Cresta rossa e piumaggio nero lucido, splendido nelle sue linee, il picchio dal becco d'avorio non esiste più in natura. L'uccello, che popolava le aree verdi dell'Arkansas, è stato dichiarato ufficialmente estinto insieme ad altre 22 specie. Una perdita permanente per l'ecosistema, certificata dal Fish and Wildlife Service, l'agenzia statunitense che monitora biodiversità e specie minacciate. Con il picchio si estinguono altre 10 specie d'uccelli, 8 di molluschi, 2 di pesci, una specie di pipistrello e una specie di pianta. I principali fattori che hanno portato alla perdita di specie minacciate sono stati la perdita degli abita, la loro trasformazione e la comparsa di specie invasive, specie non autotone, in particolare nelle isole del Pacifico. Queste minacce sono ancora presenti oggi e stanno portando all'estinzione di altre specie. Incendi, pressione sull'ambiente, carico antropico, cambiamento climatico e inquinamento sono le ragioni del depauperamento sempre più grave di fauna e flora. Ci sono così tante specie in condizioni disastrose e penso che sia importante rifocalizzare la nostra attenzione su quelle che possiamo salvare e quelle che hanno bisogno dei nostri sforzi in questo momento. Ritengo che sia necessario rivalutare di tanto in tanto a che punto siamo perché queste specie non sono monitorate da tempo, nonostante il grande sforzo per trovarle. Penso che sia probabilmente il momento di dichiararle stinte e speriamo di imparare la lezione da qui in avanti. In tutto il mondo circa 907 specie sono state certificate come stinte.